Ragazzi, siamo ritornati con mio fratello, guardate qua, un pezzo d'uomo Oggi ragazzi andiamo a Mergellina, precisamente all'acquaio della Villa Comunale E niente, andiamo, andiamo, ci vediamo in chiave Ci troviamo alla Villa Comunale, stiamo andando all'acquare per vedere le cose belle Ci mancano pochi minuti Io mi dissocio da cose belle, però, vabbè Ragazzi, perché c'è un sottomarino? Io dico, no, non è un sottomarino, che cazzo era questo cosa? Non è un sottomarino, ragazzi, l'ho trovato su GTA È uguale, è uguale, ragazzi, è realistico Ragazzi, mi metto la foto qua È uguale, ragazzi, uguale E si mette sull'acqua Bellissimo, è realistico Ragazzi, 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 ragazzi Ragazzi, ragazzi, ragazzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti